siamo qui oggi con quanto costa il tuo outfit vediamo il primo ragazzo ciao come ti chiami ciao mi chiamo luca ciao luca quanto costa il tuo outfit parti dal basso e vai all'alto fendi per nike 5k ginsettino zara 1.2 on light cappellino on light per fendi 5k ma questo è radice outfit un giocchettino radice outfit 10k e felpa cintura hermes per fendi 2002 maglietta a giappone tokyo fendi tokyo drift diesel polvolo quel cosfoglione che è morto 3k e mezzo con lana con lana arriviamo per sicuramente radice crocifisso radice crocifisso in oro ma 3k ok grazie ora grazie 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 grazie